Ciao, mi chiamo Pierluca Zizzi e volevo invitarvi al mio webinar. Il webinar parlerà delle mie ricerche, naturalmente. Io sono studioso di esoterismo, di simboli, soprattutto di simboli di geometria sacra. In quel webinar parlerò appunto di questi argomenti, spiegando a voi, se già li conoscete, qualcosa che approfondisce l'uso dei simboli, perché funzionano e come potremmo utilizzarli. Quindi, se non li conoscete, vi spiegherò i meccanismi di base, su quali frequenze agiscono e come potreste utilizzarli nella vostra vita quotidiana, oppure per le vostre meditazioni, per le guarigioni e tutto ciò che reputerete giusto per l'uso dei simboli, della geometria sacra, delle forme e degli oggetti e delle frequenze che si emanano, come ad esempio i nostri pensieri, che sono delle frequenze, agiscono anche attraverso dei simboli che vanno conosciuti. Vanno conosciuti per migliorare la nostra vita, per agire efficacemente nel nostro universo, che poi è uno degli scopi principali della spiritualità e delle mie ricerche, ovvero quello di capire chi siamo, dove andiamo per agire meglio sulla nostra vita, nel mondo, fare del bene a noi stessi e quindi naturalmente al mondo nel quale viviamo. Mi sono permesso di pensare un piccolo regalo per tutti voi, ovvero un simbolo che elaborerò, sarà una sorpresa, naturalmente non vi posso dire di più, comunque è un simbolo che elaborerò esattamente per il webinar e che regalerò a tutti voi partecipanti. Adesso vedremo la forma con la quale potrete usarlo. Ebbene, dunque vi invito ancora una volta, vedrete che ci divertiremo, impareremo insieme tantissime cose e risponderò chiaramente alle vostre domande, sia pratiche che teoriche, sugli argomenti che a me sono cari e su ciò che ho scritto su questi argomenti. Vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione e vi saluto. Ciao!